A Castelluccio di Norcia la trebbiatura della lenticchia entra nel vivo. Domani mattina attorno alle 9.32 o forse tre mieti trebbie entreranno in azione sul pian grande per raccogliere il grosso della produzione, racconta Lanza Giovanni Cocce, portavoce degli agricoltori di Castelluccio. Saranno presenti anche i vertici della col diretti a cominciare dal presidente nazionale Roberto Moncalvo che sarà accompagnato dal suo omologo umbro Albano Agabiti e dal direttore della col diretti regionale Diego Furia. Alcuni agricoltori hanno già in parte effettuato la trebbiatura ma domani mattina si inizia il grosso del raccolto e andrà avanti per alcuni giorni e a fine agosto organizzeremo la festa della trebbiatura, aggiunge Coccia. Nella raccolta domani saranno impegnati una decina di imprenditori agricoli mentre ad avere seminato la lenticchia sono stati circa 40.